In questa video lezione noi cercheremo di comprendere come Petrarca, intellettuale contraddittorio per molti aspetti, riesca a trovare una straordinaria sintesi tra la sapienza del mondo antico, quindi dei classici, e la doctrina che invece gli arrivava attraverso i padri della Chiesa. Tra le tante attività mi dedicai singolarmente a conoscere il mondo antico, giacché questa età presente a me è sempre dispiaciuta, tanto che se l'affetto dei miei cari mi indirizzasse diversamente, sempre avrei preferito d'essere nato, in qualunque altra età, e questa mi sono sforzato di dimenticarla, sempre inserendomi spiritualmente in altre. E' questo un passaggio molto interessante, che è presente nella lettera posteritati, l'ultima del gruppo delle Siniles, scritta in latino, e vedremo poi dopo che senso ha questa mia precisazione. In questa lettera, appunto, rivolta a noi, cioè ai posteri, Petrarca dice di non vivere bene l'età sua presente, di preferire l'età passata, il mondo antico. E se, appunto, questa affermazione non dispiacesse troppo i suoi cari, lui preferirebbe non essere mai nato in questa epoca presente, ma avrebbe preferito vivere nell'epoca passata. E comunque, dal momento che è costretto a vivere nel presente, spiritualmente, però, vive nel passato. E allora, andiamo, insomma, in questo passato, che cosa cerca Petrarca in questo passato? Cerca libri, cerca libri. Abbiamo tantissime lettere in cui Petrarca chiede a amici, a monasteri, di copiarli, ricopiarli quel testo, quell'altro codice, e li legge. Li legge, prima ancora che nascesse la filologia come scienza, di postilla, cioè aggiunge delle annotazioni a questi testi, quindi li commenta brevemente, dà un suo giudizio, di natura linguistica fondamentalmente, ma non solo, e quella per un punto per azione che in termini moderni si chiama postillatura, fatta in latino, e anche questa mia osservazione poi verrà ripresa successivamente. non è soprattutto convinto di poter avere un solo codice, ma preferisce talvolta averne anche due per poterli confrontare, appunto, e trovare quella che lui ritiene essere l'edizione migliore, appunto, un'operazione di collazione, così come fanno i filologi moderni. questo, questo bisogno fisico come l'area dei libri, questa necessità di confrontarsi col testo latino, di entrare dentro il testo, di selezionare la parola, di riflettere sulla parola. lo porta, naturalmente, ad aver, diciamo, collezionato tantissimi libri. vediamo un po' com'era fatta la biblioteca di Petrarca, meglio, insomma, le sezioni principali. sicuramente dovevano esserci testi come la Proarche di Epistolario di Cicerone, da lui trovati, scoperti, discoperti, insomma. Sicuramente c'erano traduzioni latine di tanti autori greci, Omero, figlia dell'Udissea, sono opere a cui lui prende per dei riferimenti importanti. di Platone, un filosofo che lui piace molto perché vede e ha ragione degli elementi in comune con l'altro filosofo, assolta cristiano, che lui preferisce, cioè Agostino e Aristotele. una biblioteca sconfinata di classici latini, tutti i più grandi, insomma, Orazio, Ovidio, Livio e tra cui sicuramente il suo amatissimo Virgilio. Testi medievali cristiani di varia natura e quindi, ovviamente, un autore anche amatissimo come Agostino, Sant'Agostino, e anche la commedia di Dante, anche se Pedrarca non considerava Dante un grandissimo poeta, insomma. Ma cosa faceva con questi classici? Abbiamo visto che li leggeva, li annotava, li collazionava l'uno all'altro, ma la sua non era una semplice lettura, ma era un modo nuovo di leggere i classici, cioè non soltanto leggeva i classici come tanti uomini del Medioevo, per trarre da loro pillole di saggezza, essere quindi spunti di saggezza, exempla che dovevano essere paradigmatici o che dovevano servire per la propria vita, citazioni che potevano essere importanti in vari contesti. Ma lui cercava l'uomo in questi classici, appunto, è una ricerca di humanitas, una ricerca, cioè, dell'uomo, dell'uomo antico, con le sue debolezze, con i suoi momenti di tristezza, con le sue gioie, quindi cercava veramente quello che poi cercava anche in se stesso, e cioè cercava di interiorità. Tant'è vero che si parla di un petarca preumanista, o addirittura proto-umanista, perché il metodo filologico, questa lettura dei classici così moderna, è una lettura, cioè, non allegorica dei classici, che senso non allegorica, nel senso che per Petrarca il viaggio compiuto da Enea nell'Eneide, dalla Troade fino a Lazio, è il viaggio compiuto da Enea dalla Troade fino a Lazio. Non è il viaggio dell'anima umana su questa terra, attraverso una serie di difficoltà. Ecco, questa è una lettura poi umanistica, naturalmente, Petrarca, appunto, è presente questa lettura non allegorica, quindi lontana dal metodo interpretativo della scolastica di Tommaso, in cui ogni testo latino andava in qualche modo trasformato in una dimensione cristiana. Ma nello stesso tempo Petrarca non è un avversario del cristianesimo, anzi, insomma, per cui in Petrarca noi abbiamo una figura particolare, stranissima di intellettuale preumanista e cristiano, cioè abbiamo quell'umanesimo cristiano che rende Petrarca un personaggio veramente particolare, unico per molti aspetti. Infatti lui ha cercato di raccogliere la sapienza dai libri classici, ma non soltanto per dimostrare la propria personale cultura, ma aggiungere anche la dottrina cristiana, cioè la riflessione dei padri della Chiesa e riflessione su che cosa, su che cosa riflettevano i testi, gli autori pagani, e su che cosa riflettevano gli autori cristiani nei testi cristiani, riflettevano sull'uomo. Ecco, questa ricerca abbiamo detto nell'altra slide dell'Humanitas. Perché Petrarca si era convinto, ed era convinto, che l'uomo classico era l'uomo cristiano, cioè che i dubbi, le perplessità, le tristezze, le angosce dell'uomo cristiano erano le stesse dell'uomo antico, raccontate ovviamente in una lingua latina, ma comunque era appunto un'interiorità che era molto simile. Per cui, più che contrapporre il mondo antico al mondo cristiano, in Petrarca assistiamo a una sorta di sincretismo. Un esempio su tutti, il concetto di ozio ma latino, per Petrarca era un concetto molto vicino all'ascetismo cristiano, quindi una modalità di vedere l'uomo non in contrapposizione tra mondo antico e mondo cristiano, ma, e neppure una, diciamo, un uomo cristiano che sostituisce un uomo antico, ma un uomo, semplicemente un uomo, con i suoi pregi e con i suoi difetti, raccontato con, più che una lingua nel senso di lingua latina, un lessico differente appunto, come abbiamo visto ozio e ascetismo, ma pur sempre un uomo. E allora andiamo a vedere un pochettino questo bilinguismo di Petrarca, questa presenza, cioè nell'autore della lingua latina, che gli serviva per comporre delle opere, vedremo, insomma, sono tantissime le opere che Petrarca ha scritto in latino, ma gli serviva anche per un uso familiare, perché quelle postille di cui abbiamo parlato prima, Petrarca le scriveva in lingua latina, quindi era una lingua talmente familiare quella di Petrarca che era quasi una lingua naturale, per ricordare quanto affermava Dante nelle opere, per esempio del convivio e del vulgare eloquenzia, quindi una lingua appunto non artificiale, ma una lingua familiare, davvero familiare, al cui lui si esprimeva, quasi pensava in questa lingua latina. Il vulgare è la lingua popularis, come la chiamava, insomma, in una famosa lettera rivolta a Giovanni Boccaccio. Certo, non dobbiamo pensare che essendo una lingua popularis non fosse una lingua curata da Petrarca, ma Petrarca distingueva un pubblico, un pubblico di dotti, un pubblico acculturato, a cui si rivolgeva in lingua latina, un pubblico altro, a cui si rivolgeva con una lingua che comunque era particolarmente selezionata, lessicalmente selezionata, e noi lo vedremo perché il canzoniere, che è una delle due opere scritte da Petrarca appunto in volgare, il canzoniere è una lingua che presenta un lessico estremamente selezionato ed estremamente curato. Quando affronteremo appunto la lezione sul canzoniere vedremo che il nostro Petrarca è tornato tantissime volte a parlare, a riscrivere i testi del canzoniere, e quindi questo vuol dire cura formale, e quelle parole che lui ha scelto saranno poi le parole che accompagneranno la lidica d'amore per tantissimi secoli, fino anche al novecento italiano. Andiamo ora però a vedere alcune opere che Petrarca ha scritto in latino, e sono veramente tante. Sono opere scritte sia in versi che in prosa, come per esempio l'Africa, di Bucolicum Carmen, oppure anche questa opera scritta in versi ma di evidente argomento cristiano, come appunto i psalmi penitenziales. altre opere scritte in prosa, in lingua latina, De Viris Illustribus, Reum Memorandarum, Libri, De Vita Solitaria, De Ozzio, libri appunto scritti in prosa che trattano di argomenti vari, anche argomenti di storia, ma argomenti anche di filosofia morale, come il De Ozzio, il De Vita Solitaria, argomenti che hanno a che fare con l'interiorità, il Secretum, appunto, oppure altre opere, insomma, come il Dele Medici o Triusque Fortune, insomma, o le tantissime lettere raccolte in un ricchissimo epistolario. Quindi non esiste un genere letterario specifico per il latino, ma, come si può vedere, si va dal poema epico dell'Africa a un argomento evidentemente religioso, come quello dei salmi, a opere di storia, a opere che hanno a che fare con la filosofia morale, delle opere dell'interiorità. Le opere in volgare, invece, sono soltanto due. Il Canzoniere, il cui titolo però è in latino, Rerum vulgarium fragmenta, e un'altra opera, I Trionfi, appunto, anche questo è presente il titolo in latino. Si tratta naturalmente, come ho detto, di opere cui Petrarca ha ragionato all'interno di tutta la sua vita, perché Petrarca non scriveva un'opera e poi la pubblicava e poi non ritornava più su quest'opera, ma il processo di rielaborazione delle opere, tanto quello latino quanto quello volgare, era un processo continuo, per cui, di fatto, era un vero e proprio bilinguista il nostro Petrarca. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti